buongiorno gente benvenuti in questo nuovo video che è la persona più entusiasta di questo mondo oggi sono io ho fatto un po di fatica perché abbiamo tirato giù le scatole che stavano sopra le armadi e ormai c'è una certa età ma adesso siamo pronti per fare l'albero di natale e io non vedevo letteralmente allora perché negli ultimi anni non l'ho mai fatto così tardi oggi siamo al 11 di dicembre e direi che è decisamente tardi ma meglio tardi che mai quindi oggi si comincia con l'allestimento della casa la preparazione della casa per natale dove lo mettiamo quest'albero esattamente qui se pensate che non c'è spazio è vero la casa è piena di cose ma non importa una mia amica oggi ha detto che non fa l'albero perché se mette l'albero deve uscire di casa lei e io ho detto usciamo di casa noi piuttosto che non fare l'albero perché non posso assolutamente rinunciare all'albero di natale per cui faremo un po di spazio qui vicino al pianoforte tra il pianoforte col mobile lì vediamo un po come funziona il tutto e prepariamo la casa per natale questo video non è sicuramente un video tutorial su come fare l'albero di natale ce ne sono tanti in giro sono molto belli questo piuttosto un come lo addobbo io l'albero e quali soluzioni trovo ai vari problemi che mi si presentano il primo tra questi lo spazio qui ce n'è pochissimo ma vedrete che alla fine riusciremo a trovare un modo per sistemare bene tutto quanto e nulla sembrerà fuori posto e anche se sembrerà fuori posto non è quello l'importante l'importante è avere il natale in casa e stare tutti bene poi tutto il resto è trascurabile tra l'altro l'outfit di oggi è tutto rosa perché voglio anche filmare un reel di quelli che se ne vedono in giro in cui c'è la trasformazione per natale e ho già firmato la prima parte in cui c'è il featuring di questo outfit tutto rosina non ho freddo mi sto già sul riscaldando perché sono iperattiva e presa benissimo per questa storia dell'albero quindi diamoci subito da fare già per partire vorrei attirare la vostra attenzione su alcuni punti importantissimi uno dove verrà posizionato l'albero di natale c'è l'attacco per la presa quali altre cose dovranno essere attaccati nella stessa presa io ne ho già più di una per cui questa è la soluzione per me perché poi fortunatamente la presa c'è esattamente lì solo che c'è anche il pianoforte se non attacchiamo poi succede che non si suona più e questa non è un'ottima cosa visto che arrivano comunque le festività e magari saliamo un po più spesso a casa e si potrà sfruttare in pianoforte più spesso quindi questo non è un dettaglio da dimenticare dove lo attacchiamo l'albero e cos'altro ci deve rimanere attaccato non è molto feng shui questa storia qui però è quello che abbiamo quello con cui lavoriamo quindi chissere eccolo qua il nostro alberello va tutto un attimo ripolpato e questo ve lo risparmio perché tanto lo sapete come si fa no bisogna aprire benissimo tutti i ramettini metterli bene al loro posto farlo sembrare un pochino più pieno e adesso in un attimo di magia comparirà un albero pieno e bellissimo siamo a buon punto con l'albero nel frattempo si è aggiunto anche un altro piccolo aiutante piccolo no è grande luca quali altri consigli hai per chi ci sta guardando e per l'albero di natale cosa hai scoperto cosa imparato oggi poca roba come poca roba partire dal basso andare verso l'alto ok mancano le palline mancano le luci pensavo di trovarlo già domani invece abbiamo aspettato appunto te per farlo guarda che bello che è ragazzi è stupendo dai comunque il segreto è partire dal basso andare verso l'alto partire dal basso andare verso l'alto e poi importantissimo sistemare i rametti un po' a caso ma con criterio e cioè in tasca no in tasca no qualcuno in giù qualcuno in su qualcuno a destra a sinistra cioè un po' da tutte le parti perché quale albero avete visto perfettamente pettinato nessuno credo e quindi bisogna seguire esattamente la stessa logica quando si prepara l'albero artificiale ragazzi cosa dite appieno vedete qualche buco ci potranno rispondere e insultare solo a video ormai pubblicato quindi com'è andrà bene così com'è facciamo un direct una volta un direct vuoi fare? si voglio farmi insultare in diretta cioè un live volevi dire che ne pensate di un live? lo vogliamo fare? facciamolo allora ragazzi facciamo un controllo esatto step numero due controllare le lucine prima di metterle sull'albero perché sennò poi si rischia che non funzionino quale stai provando? queste qua? si momento della verità wow funzionano solo che queste non mi piacciono per niente queste funzionano ma sono orribili sono orribili però prova un'altra modalità altra ancora ah però vedo che cambiano anche colore no colorate non mi piacciono non ne abbiamo dorate e queste da dove arrivano? allora io direi queste teniamole da parte se mancano luci aggiungiamo anche queste non si aggiungono quelle a quelle vediamo le altre va a me piacciono quelle a led oh ed ecco che entra anche la sorella con le luci dignitose brava Olivia lo sapevo di poter conto questo tipo ma test si ma con queste lucine possiamo addobbare tutta la casa test lampadine vai queste sono belle luce calda a led è proprio quello che volevo yes oh ci sono anche diverse modalità bene si può fare bene molto bene va bene allora step numero 3 cosa dite ragazzi vi piacciono? sistemare sono bellissime queste queste si sistemare la vicina sull'albero allora ok ottima domanda la domanda è con le luci si parte si parte dal basso dall'alto io parto sempre dall'alto e io parto dall'alto partiamo dall'alto perché però aspetta il punto è che noi non abbiamo la punta cioè non abbiamo la fine della lucina quindi dobbiamo partire dal basso dalla parte che è più vicina alla presa si ma così ti devi portare in giro la palla e srotolarla se no te lo srotolo subito e parte con la cima dal cavo dall'alto come preferisci? è che non lo so guys per me si deve partire da quello che abbiamo perché se lo srotoli tutto poi rischiamo di di incastrarci dentro che ne pensi? hai perfettamente ragione e lo stai facendo? assoluto sono circondata da gente che fa quel cacchio che gli pare e mi sembra anche giusto ti sto odiando Luca sappilo comunque altro consiglio per le lucine per riempire di più l'albero vi consiglio di prendere delle lucine in abbondanza proprio tante e di solito vi dicono anche quali sono quelle più adatte in base all'altezza dell'albero e comunque partendo dall'alto io faccio sempre più giri all'interno dello stesso livello dell'albero non so se mi sono spiegata bene praticamente sui vari scendendo in giù vado un po' a zig zag sui rami per riempirlo un po' di più e dargli un po' di profondità wow come mi casa Luca nessuno cerchiamo di portare termini all'albero con le lucine ancora funzionanti e con dignità ecco brava buonissimo ah altra cosa prima avevamo la palla cioè era tutto arrotolato il filo di luci e l'uomo fatti vedere l'uomo ecco adesso si l'uomo ha avuto l'idea di srotolare tutta la palla giustamente giustamente e poi sistemare le lucine sull'albero pessima idea ragazzi pessima perché e vi do anche la ragione se tu hai la palla te la porti comodamente in giro o comunque soltanto l'uomo che ti porta la palla invece così questo è difficilissimo metterlo sopra perché devi tutte le volte cercare di andare sopra ma va sono andato in Lappone al Santa Claus Village mi hanno insegnato a fare così si fa così ma cosa dici? è una tecnica approfondita eh si come quella di sparare scherzo sono veramente in abundanza queste luci eh usano apparecchie dici? si si non risparmiare nessuno eh si sembra che è nero questo filo non è la cosa migliore tu dai le profondità madonna adesso mi prenderei per il culo da qui no ma è vero funziona cioè funziona è anche senza animo l'albero ma vedi che lavoro mi stai facendo fare perché volevo vederti con la palla adesso facciamo l'unboxing di tutte le palline wow tutte quelle che ho collezionato negli anni adesso vedrai che roba buon cioccolatino? no grazie non ti ha parlato di sponsor la perugina no no però è buona perugina perugina si è sicura? sicurissima grazie 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 vi faccio vedere bene tutto quanto perché mentre abbiamo sistemato le lucine sull'albero e in realtà la casa si è riempita un po' di gente quindi è diventato un po' difficoltosa la ripresa del processo ma adesso è arrivato il momento di aprire le scatole degli addobbi andiamo a fare un po' di unboxing però forse li portiamo qua perché di là non si può fare grazie ecco cosa servono gli uomini allora qua è di nuovo successa la terza guerra mondiale purtroppo è arrivato il momento per me e lo dico con testimoni voi e testimoni anche Luca è arrivato il momento per me di ammettere che non sono più una persona ordinata più? lo ero prima un anno fa un anno fa era una persona ordinata adesso da quando la vita ha deciso di prendere il suo corso sono diventata una persona disordinata e cioè lo sto dicendo perché è arrivato il momento di fare pace con questo aspetto della mia vita e del mio modo di essere perché non posso continuare a sentirmi in colpa per una cosa che non riesco a controllare è più forte di me c'è un senso a tutto ciò non è che lo faccio così senza un senso senza una ragione è tutto necessario e se è necessario non puoi dire che è sbagliato e non puoi soprattutto sentirti in colpa il fatto è comunque che quando io creo quindi quando devo filmare ho bisogno di libertà e organizzare l'ordinario non fa parte di questo processo non c'è tempo e per questo motivo ho anche abbandonato l'idea che avevo iniziato un certo giorno di risistemare tutta la casa non è stato possibile mentre abbiamo sistemato riordinato tutti gli armadi buttato un sacco di roba ma tanta di quella roba che non so come stava qua dentro ma comunque la casa è piena non ce n'è è troppo piccola e le cose che abbiamo sono troppe e non si riesce non si riesce a tenerla in ordine intanto adesso partiamo con tutti gli addobbi facciamo un unboxing perché è un anno che non li vedo e sono casettissima tadaaa allora vabbè questi sono semplicemente sacchettini niente di che andiamo a trovare le cose che ci importano allora tessuto in juta con la scritta ho 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 fa molto a Natale questo servirà per riempire un po' di più l'albero poi abbiamo altre cosine che ho comprato l'anno scorso questa casettina è stupenda non me la ricordavo questa sarà posizionata da qualche parte ghirlanda oh questa questa adesso me la metto subito poi qui tutte le palline e tutte le wow questi sono i rimasugli della ghirlanda che avevo fatto per la porta l'anno scorso wow mi ero dimenticata devo andare a comprare i rami di albero naturale e fare la ghirlanda per la porta wow guarda cosa abbiamo qua Olivia c'è il tappettino da mettere intorno all'albero non mi ricordavo neanche di averlo trenino cioè ci sono troppe cose che non ricordavo di avere sono troppo contenta altre cosine interessanti qui sono le palline che ho acquistato l'anno scorso praticamente quando stavo ormai finendo il Natale e non sono state apprezzate e sfruttate abbastanza tipo questa guardate che meraviglia tutte queste cosine mi stanno rendendo proprio molto molto felice questi sono dei fiocchetti che ho creato io da sola con del nastro in Utah con brillantini questi sono cosine per riempire l'albero così come anche queste wow troppe cosine che non ricordavo di avere le palline gigantesche qua cosa abbiamo qua qua abbiamo la ghirlanda quella finta potremmo anche sfruttare questa mettendoci sopra delle cosine naturali così sembrerà vera perché non so se ho il tempo di farne una vera tutta da zero e qui invece abbiamo le cosine più da mettere in giro per la casa per prima cosa bisogna addobbare mer quindi tieni me la notte io sono pronta adesso andiamo a sistemare l'albero Luca è un po' tipo perplesso ma non è un mio problema I'm speechless buona continuazione ragazzi mi state abbandonando? e quando tornate? e quindi io devo mettere su le palline da sola non lo facciamo insieme? sta succedendo una cosa che degna di essere ripresa mia sorella appena tornata a casa con questo ma ciao com'è carino perfettamente in palette cioè wow che outfit è perfetto troppo carino dietro di me si nasconde l'albero facciamo il reveal insieme Luca spegneresti la luce per favore? sicuramente questo è un lavoro che prenderà più giorni di preparare tutta la casa ma intanto l'albero c'è esatto possono tornare le luci è uscito molto bene perché ho sottolato le luci sarebbe uscito così sì certo modestamente sì allora raccontiamo un po' il processo chi mi segue da più tempo sa che a me piace tantissimo addobbare l'albero a grappolo quindi raggruppare più palline insieme e creare dei mini grappoli sparsi in giro per l'albero senza caricarlo troppo di cose però partiamo con ordine allora per grappolo intendo appunto questa situazione qui e cioè di posizionare più palline di dimensioni diverse e di strutture diverse insieme e spargere in giro per l'albero le cosine più particolari tipo questi due pazzetti questa pallina qui e altre cosine molto molto carine e in questo modo si creano dei punti di interesse sparsi in giro per l'albero e non è tutto concentrato in un solo punto ma non è neanche tutto troppo statico e quindi e quindi poi abbiamo il puntale che non mi convince molto probabilmente è un po' piccino per questo albero per le dimensioni di questo albero e quindi probabilmente verrà cambiato ma come dico sempre non è che deve essere tutto già fatto tutto già pronto può diventare un work in progress e questo sarà il nostro albero quest'anno per cui per ora ho posizionato anche la juta rossa e questi piccoli rametti per riempirlo un po' di più però deciderò poi se mi piacciono e se li voglio tenere o se voglio cambiarli e mantenerlo tutto di un solo colore e cioè tutto più dorato tutto più beige in realtà in questo momento lo adoro esattamente così com'è perché è dorato come piace a me però ci sono anche dei punti di rosso che richiamano un po' il natale tradizionale e questo mi rende proprio molto molto contenta del risultato nel mentre sta finendo anche la domenica per cui adesso tolgo via un po' di cose che sono avanzate un po' di cose che non serviranno le metto via per poi capire che cos'altro posso spargere in giro per casa e vi farò vedere tutto quanto ovviamente non vi lascio fuori non vi taglio fuori da questa attività ma devo prendermi un attimo una pausa per rimettere insieme le idee a Grazie a tutti.